Fare anche in Molise ciò che la fiction Don Matteo ha fatto per Gubbio o The Passion con Mel Gibson per Matera, portare turisti promuovendo il territorio attraverso il cinema o le serie tv. La proposta arriva dallo scrittore agnonese Nicola Mastronardi che ha lanciato l'idea al nuovo governo regionale. L'Abruzzo sta lavorando a una film commission e il Molise, ha detto, è una delle poche regioni italiane a non essersi ancora sponsorizzata tramite l'intrattenimento televisivo. Per l'autore alto molisano le ipotesi sono due, collaborare con l'Abruzzo o ideare una film commission tutta molisana. L'Abruzzo si è mossa in ritardo ma ormai si è mossa, quindi un appello lo farei alla giunta regionale, agganciamoci all'Abruzzo oppure facciamone una nostra, ma finalmente facciamo questa benedetta film commission che è la cosa più efficace per la promozione del territorio, purché siano storie molisane, storie in cui perlomeno il Molise sia riconoscibile. L'unico film apertamente dedicato al Molise è stato quello di Chico Zalone e Sole a Catinelle che, ha detto Mastronardi, in fondo ha solo offeso e ridicolizzato la nostra regione. Non ha potuto funzionare Chico Zalone perché tra l'altro ci prendeva in giro. Io un po' mi sono anche offeso, molti molisani si sono offesi. Qualcuno dice, purché se ne parli, in realtà possiamo fare molto meglio. Lo scrittore agnonese, autore di Vitelliu e dei figli del toro, ha poi lanciato le proposte. Le storie da raccontare, ha detto, sono tante. Vitelliu e il nome della libertà è lì. È una storia che riguarda per il 60% il territorio molisano, è una storia epica, una storia che racconta all'Italia e al mondo la nascita addirittura di Italia, racconta la storia di un popolo, quello dei sanniti, indomiti, che non hanno mai accettato, per amore della libertà, il dominio di Roma. Una storia tragica, meravigliosa. È facile promuovere le proprie cose. Ma se non è Vitelliu, c'è Celestino V. Ci sono i romanzi di autori molisani che possono essere assolutamente storie, ma anche storie scritte ex novo, purché si girino in Molise, che in Molise sia riconoscibile.